Buona giornata, Sunday Cup, schema 3 contro Dragable, risultato ancora sullo 0-0, tengono in avanti adesso i Dragable, poi una serie di rimpalli favoriscono ancora Mariano Medichini, sbaglia il dribbling Gianluca Parlanti, la palla finisce il calcio d'angolo sul pressing di Giovanni Ruggero. Il giro mette al centro, troppo bassa, si tengono però in avanti gli schema 3, Roberto Russo, il tiro ed il gol di Roberto Russo per l'1-0 degli schema 3 su questi Dragable de mierda. Perché tu non giochi? Ti fa schifo, Vincenzo Trassari, serve Antonio Romanelli, back, sbaglia il passaggio, poi Vitiello ancora, forse si allunga troppo il pallone, montanare, rischia direi alquanto. Menichini, Mariano, in mezzo a due, cerca il passaggio progressivo, Valerio il fratello, poi Antonio Romanelli. Francesco Galliani, sul pallone, Gianluca Vitiello sbaglia lo stop, poi Vitiello si porta la palla sulla fascia e un fallo laterale a favore gli schema 3. Ancora Fabregas, Valerio Menichini. Giovanni, tra un po' lunga, vediamo qui il colgamento.